Assieme ad Elbis iniziamo oggi una partnership importante. Ci auguriamo che con questo daremo la svolta a un'attività di mobilità sostenibile significativa per la nostra città. Il tema della mobilità sostenibile è uno di quelli più importanti del nostro programma elettorale. Si deve sempre avere coscienza di quanto sia delicato e merito l'attenzione alla circolazione su strada. Il primo sindaco, il nuovo mezzo in città, ha le sue regole, le sue regole che vanno rispettate. Sicuramente sarà un mezzo alternativo per la mobilità urbana locale.